Un progetto che parte da Pescara, un progetto rivoluzionario, di cosa si tratta? È la prima volta che un protocollo italiano sposa il calcio professionistico e sarà la prima volta che verranno ottimizzati tutti i giocatori a livello visivo affinché la balistica migliori e soprattutto migliorino anche le condizioni posturali dei giocatori che avendo a volte degli squilibri visivi possono avere infortuni legati ad un alterato utilizzo della propria vista. La rivoluzione dove sarà? Che ovviamente affinché ci sia possibile è necessaria una protesi, cioè degli occhiali specifici e questi occhiali sono stati realizzati appositamente per questo progetto dalla Bollè Italia sponsor e fornitore tecnico del Giro d'Italia per i prossimi tre anni che per la prima volta si approccia al calcio professionistico avendo scelto la Pescara Calcio che per noi è un orgoglio grande e avendo scelto il centro oculistico Poglio e lo staff che dirigo per questo progetto. L'obiettivo è quello di estendere poi questo progetto a tutte le 22 società del campionato di Serie B. Il presidente Sebastiani si è immediatamente adoperato affinché ci fosse un incontro con Abodi con il presidente della Lega che è venuto durante il periodo estivo a Pescara ed in un incontro prima negli uffici del presidente e poi successivamente a cena abbiamo stabilito che venisse portato questo protocollo alla Lega e in commissione medica diretta dal dottor Braconaro. A settembre nella prima riunione di Lega ci saranno i presupposti per estendere non più alla Pescara Calcio che rimane comunque la squadra leader e a Bodi ovviamente avendo sposato questo progetto ci può in essere di poter proiettare l'Abruzzo e quindi il gruppo di ricerca nel calcio italiano. Grazie